Ciao, sono Stefano Rovetto, ho 12 anni, sono del 2004 e del giovane in promesse penso che questa possa dare un'opportunità a tutti quanti i ragazzi che sognano di fare il calciatore in futuro. Tifo la Juve, sono un attaccante. A chi ti ispiri? A Paolo Dibà. A Paolo Dibà.